Tra le 838 strutture e relative aree di preparazione e somministrazione degli alimenti controllate dai carabinieri del NAS in tutto il territorio nazionale, scoprendone i 257 regolari, pari al 31% degli obiettivi ispezionati e contestando 415 sanzioni penali e amministrative per oltre 290.000 euro, ve ne è una anche calabrese, per la precisione di Reggio Calabria, dove i militari dell'arma hanno deferito il legale rappresentante di uno stabilimento balneare per aver promosso senza alcun titolo autorizzativo un evento danzante all'interno della struttura. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno infatti consentito di appurare che nelle ore serali lo stabilimento era adibito a luogo di ritrovo e di intrattenimento del tipo discoteca all'aperto, ospitando fino a circa 500 persone, malgrado non possedesse le prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza e la conseguente idonietà.